Buonasera a tutti, eccoci qui a parlare di un altro caso di vite sbagliate, di vite perse, di vite dannate, la storia di Ilse Koch, nata Köhler, soprannominata la cagna di Buchenwald. È una storia che mi ha fatto riflettere molto sul senso della vita, sul libero arbitrio, sul fatto che noi operiamo delle scelte nella nostra vita e queste scelte determinano il nostro futuro. Ma la domanda più specifica è la seguente, ma queste scelte sono davvero le nostre scelte? O c'è una forma di predestinazione? Stiamo recitando un ruolo come gli attori? Perché nessuno si sognerebbe mai, in quanto poliziotto, di andare ad arrestare l'attore che sta recitando un'azione di crimine, che sta uccidendo una persona, proprio perché questa persona non è colpevole. Siamo quindi noi i veri autori delle nostre imprese? Siano esse positive, siano esse negative? Andiamo a vedere un po' la vita di questa persona dannata, la vita di questa persona sbagliata. Andiamo nel dettaglio a scoprire di che cosa si tratta. Che cosa ha trasformato una mite bibliotecaria di Dresda, di una cittadina così felice, così redente, in un orribile medusa, in un orribile mostro assetato di sangue e di vendetta, con un senso potentissimo di rivalsa, quasi volesse essere una divinità del male ed essere adorata come una dea. E vi chiedo, cari ascoltatori, avete tutti vicino al letto, quella che si può definire una lampada, una bajour, un oggetto che vi accompagna, un oggetto caro, un oggetto che vi dà tranquillità nelle vostre notti, che potete accendere o spegnere a vostro piacimento. Ma se vi dicessi che questo oggetto è fatto di pelle umana, di prigionieri, voi che cosa direste? Avreste ancora il coraggio di guardarlo, di toccarlo? È una cosa veramente che sconvolge. Ed infatti Ilsecoge aveva una stranissima attitudine nei confronti del proprio arredamento. La casa di Ilse era arredata da mobili sedie che erano conciati da un conciatore appunto di pelle di Weimar, però erano ricavati dalla pelle di prigionieri. E c'erano, come potete vedere, anche parti anatomiche dei prigionieri e teste rimpicciolite, secondo gli arcani riti dei cacciatori appunto del Sud America, quelle che si possono definire zanza. Ebbene sì, c'erano delle zanza nella casa di Ilse e di suo marito, che era il responsabile del campo di concentramento di Buchenwald. È possibile giungere ad un orrore tale? Ed è possibile che una ragazza sia così felice di questi cimeli di pelle umana, di questi tatuaggi che aveva scoperto nei corpi quasi ormai senza vita, dei corpi di questi zombie, di questi morti viventi che erano la popolazione del Lager, di queste povere persone che vivevano ormai distenti di privazione e che non erano più uomini. Non soffrivano quasi neanche più perché erano arrivati sul fondo dell'abisso infernale, quasi pietrificati. E lei godeva nel seviziare queste persone e nel strappare a loro la pelle. E questi furono elementi decisivi nel processo che venne intentato contro Ilse. Si può parlare a questo punto dell'effetto lucifero. Gli studiosi hanno fatto indagini su questa cosa, diciamo, cercando di capire fino in fondo il male. Ad esempio, Philip Zimbardo dell'Università di Stanford ha pagato dei volontari suddividendoli in guardie e, diciamo, prigionieri. E si è accorto che alla fine le guardie, dotate di uniforme, di oggetti che potevano fare del male, ed era tutto un esperimento su base volontaria di studenti universitari, le guardie effettivamente hanno iniziato ad incrudelire, a diventare più cattive, più sadiche, nei confronti dei loro colleghi che erano appunto i prigionieri. Quindi lui ha scritto appunto questo effetto lucifero andando quasi a giustificare il male, nel senso che se vi si dà un ruolo, quello che dicevamo prima, nella scala della vita, voi poi vi adattate a quel ruolo. Se il ruolo è quello dell'aguzzino, poi la gente diventa aguzzino. Ma è proprio vera questa cosa, è proprio vera questa cosa così sconvolgente. Anche Todd Strasser l'ha notato in ambiente scolastico e ha scritto appunto l'onda, volendo ricreare in una scuola il clima che si era creato nel nazismo e quindi dando agli studenti un uniforme, obbligandoli a regole militari, si è visto che gli studenti incrudelivano nei confronti delle persone che avevano una mentalità divergente e quindi non erano d'accordo con la massa. Quindi anche qui si viene, con questa letteratura, a spiegare il senso del totalitarismo, il senso dell'abbandonarsi completamente ad un'ideologia e a perseguirla fino alla fine, un'ideologia autocratica. Il Signore delle Mosche è un'altra fine indagine sull'origine del male, vedendo appunto un gruppo di studenti che atterra a causa appunto del fatto che è precipitato il loro aereo su un'isola e qui si creano due fazioni appunto, quella di quelli che si riconoscono nell'ordine e nel bene, i cosiddetti invece cacciatori che cominciano ad operare scelte selvagge, tanto ad arrivare fino all'omicidio e quindi la tesi appunto di Golding è quella che il male e il bene sono connaturati nella natura umana e che sta proprio all'uomo adattarsi all'una o all'altra cosa. Ma è davvero così facile definire una persona? È davvero così facile definire il male? È davvero così facile etichettare una persona come buona o come cattiva? E c'è qualche cosa che va al di là della singola persona, c'è una forma di predestinazione oppure una persona sceglie liberamente di operare il male e sceglie di diventare una creatura sanguinaria come ne conosciamo tantissime appunto nella storia e anche di figure femminili come Elisabeth Bathory, la principessa ungherese che faceva il bagno nel sangue delle proprie serve e godeva nel procurare male. È davvero così facile scandagliare l'animo umano e trovarvi in fondo di cattiveria che queste persone hanno scelto liberamente di praticare? Punto di domanda. O c'è qualche cosa di veramente più malvagio, c'è un elemento satanico, diabolico, qualche cosa di peggiore o è solo l'essere umano nella sua semplicità che è buono o che è cattivo come ci sono persone dai capelli rossi, dai capelli neri o dai capelli bianchi? Punto di domanda. Come Jeffrey Dahmer che in questo aspetto così innocuo di quasi di studente universitario invece praticava le cose più brutte, più abbiette arrivando anche lui al fondo infernale del pozzo del diavolo. Ma procediamo con ordine, vediamo un po' la vita di Ilse. Nasce a Dresda il 22 settembre 1906 da una famiglia contadina semplice, è una bambina allegra, è una bambina servizievole, è una bambina molto dolce che i genitori coccolano e che ritengono appunto destinata a un grande avvenire. Dresda è poi la città sede di un'importante università, è uno dei centri più belli di tutta la Germania, era amata da Johann Wolfgang von Goethe, il più grande scrittore, tedesco, che qui visse per alcuni anni e addirittura il pittore italiano Canaletto la immortalò in numerosi dipinti. Quindi un contesto tra il bucolico e il cittadino molto molto interessante, molto particolare, molto stimolante dal punto di vista culturale. Ma dobbiamo dire che Ilse vive negli anni della prima guerra mondiale che portarono al crollo della Germania, alla sua distruzione, al suo smembramento e alla grandissima crisi economica del 23, che come vedete provocò un'inflazione altissima, il denaro non contava più nulla, tanto che questa ragazza lo brucia nella stufa per riscaldarsi o questi ragazzi giocano ad impilare milioni di marchi. la classe media è disperata, non sa più cosa fare, non ci sono più risparmi, il trattato di Versailles non concede nessun tipo di privilegio alla Germania, anzi la schiaccia con dei debiti pesantissimi di guerra, la Germania è in ginocchio, la Germania è completamente piegata, con la schiena, piegata e frustata, oltre che frustrata anche, quindi ci sono duplici aspetti e il se vive in questo diciamo momento particolarissimo, tanto che appunto rinuncia agli studi, a 15 anni lascia la scuola per andare a fare l'operaia e successivamente la bibliotecaria e in qualità di bibliotecaria tiene anche la contabilità della biblioteca, di questa biblioteca, di questa libreria e quindi si avvicina al mondo dell'economia, al mondo dei numeri, potremmo dire modernamente che era una buona ragioniera e vede come tanti altri giovani nel partito nazionalsocialista guidato da un certo Adolf Hitler la salvezza della Germania, vede avvicinarsi questi signori in uniforme nella sua libreria e non può che esserne conquistata dalle loro idee, dalla loro forza, dalla loro magnetismo e dal fatto che appunto loro credono in un'ideologia e promettono di risollevare la Germania come tanti altri è ingannata da questa ideologia che vede il complotto giudaico come qualche cosa di negativo gli ebrei come non tedeschi che hanno usurpato la patria hanno stretto legami con tutte le potenze occidentali con l'America con la Russia a discapito appunto della Germania ma con Hitler e con il nazionalsocialismo e il nazismo c'è la possibilità di risorgere e lei viene assunta appunto come contabile sorvegliante in un campo di concentramento quello di Sachsenhausen e il momento decisivo qui è quando arriva alla conoscenza di Karl Otto Koch e i due si innamorano i due condividono le stesse esperienze di crudeltà di sadismo questo senso di rivincita questo desiderio di incrudelirsi contro chi non è tedesco e di colpevolizzare fino ad arrivare ad un capro espiatorio che si rivolge nei confronti degli ebrei che sono responsabili di aver messo in ginocchio la Germania ed aver cospirato contro la propria patria e di non essere quindi effettivamente tedeschi e il comandante appunto è un uomo in carriera e quindi un uomo che viene ben visto dai vertici più alti del partito nazionale socialista e è un uomo quindi in ascesa che Himmler stesso si occuperà di celebrare il loro matrimonio e lei entra appunto nel campo di concentramento neocostruito di Buchenwald località sempre frequentata da Goethe e da tutti i poeti come moglie del comandante e come alto dirigente anche del partito nazionale socialista di cui era tesserata e di cui era un importante membro quindi il suo ruolo è completamente attivo e questo campo è un campo di lavoro ma il lavoro qui porta alla morte e allo sfinimento corporale dei prigionieri che non sopravvivono i pochi che riescono a durare più dei tre mesi canonici vengono poi spediti nei centri di eutanasia oppure vengono eliminati nel posto con iniezioni di fenolo oppure si iniziano a praticare le sperimentazioni mediche anche queste volte ad accertare i modi peggiori di morire qui la signora si macchia dei più alti crimini comincia a dedicarsi all'equitazione a girare con un frustino a frustare i prigionieri che la guardano con occhi di desiderio perché era una donna molto bella per l'epoca appariscente avvenente lei si vestiva in maniera provocante sceglieva le persone per praticare delle orge notturne e poi faceva condannare a morte questi prigionieri che lei sceglieva era veramente di una crudeltà diciamo avvicinabile a quella della dell'Elisabetta Bathory quindi qualche cosa di veramente mostruoso perverso maligno e lei godeva nel fare e nell'infliggere del male ai prigionieri e a celebrare in queste feste notturne qualche cosa di mal sano e poi a farla pagare a quelli che venivano scelti e in particolare come abbiamo detto prima era amante dei tatuaggi e quindi faceva siccome c'era un medico che doveva scrivere una tesi di laurea o di ricerca sul tatuaggio per voler dimostrare che l'uomo tatuato era più cattivo dell'uomo senza i tatuaggi lei senza scrupoli chiama appunto dopo aver fatto uccidere tre prigionieri chiama un conciatore di pelli di Weimar cittadina lì vicina e padre della famosa repubblica caduta in disgrazia con il nazionale socialismo e fa scuoiare queste persone e appunto con questi bellissimi a parer suo tatuaggi si fa costruire delle abagior delle sedie e usa appunto anche le teste per rimpicciolirle quindi una discesa completa nel male in cui lei si sente la regina dell'inferno in questo mondo che è quello del lager lei ricopre il vertice è un apicale di questo mondo senza regole completamente affidato al sadismo e si narra appunto che addirittura fecero costruire i coniugi un uno zoo in cui vi era un'aquila e un orso non si sa bene se questo sia corrispondente al vero ma alcuni prigionieri venivano sacrificati a questo animale come punizione per le loro mancanze oppure semplicemente venivano scelti per essere divorati o squartati dall'orso e poi il lavoro veniva finito dall'aquila è una cosa veramente tra le più atroci e mostruose il il nostro Otto Karl Otto dopo aver dempiuto ai suoi obblighi nei confronti del partito e aver generato figli che era la cosa che si chiedeva alle giovani coppie si dedica al più sfrenato sadismo al pari della moglie e però verrà catturato dalle stesse SS che trovano che si era arricchito un po' troppo con i denari appunto degli internati aveva arraffato troppo denaro e diciamo lo usava per fini propri quindi una forma appunto di peculato di malversazione pubblica e questo non veniva perdonato nemmeno nel regime che forse aveva paura addirittura della crudeltà dei due conigi li fa arrestare entrambi e Otto viene condannato a morte e la sentenza viene eseguita proprio a Buchenwald nel suo lager mentre Ilse viene condannata a 17 anni di prigionia successivamente la il tribunale americano proseguirà questa indagine ma diciamo essendo Ilse colpevole di crimini nei confronti della Germania e non nei confronti degli americani verrà rilasciata ma una insurrezione dell'opinione pubblica di tutti i cittadini che conoscevano le malefatte fece sì che venisse arrestata di nuovo venisse riproposto il processo e lei venisse condannata all'ergastolo per i crimini che aveva diretto e come vedete sperimentazioni orribili sui bambini per volerli quasi appunto volerne la morte certa con esperimenti che non avevano nulla di scientifico il processo appunto come abbiamo detto porta il comandante a morte certa e da una specie di palcoscenico degli orrori a Ilse e le testimonianze decisive sono appunto quelle degli internati dei capò delle guardie e di tutti quelli che hanno potuto testimoniare queste barbarie Ilse nonostante appunto abbia concepito in prigionia ad Acau un figlio viene comunque condannata all'ergastolo e all'isolamento e lei a un certo punto non ce la fa più e commette suicidio scrivendo una lettera appunto al figlio che comunque era appena nato cioè era nato il figlio ventenne nel frattempo che l'andava a trovare in prigione nessuno penso degli internati in queste condizioni di estrema povertà denutrizione l'avrebbe mai potuta perdonare per gli orrori di cui si è macchiata e qui siamo giunti alla parabola finale lascio a voi le considerazioni sul fatto che questa donna che poteva avere un futuro diverso ha scelto di sporcarsi le mani è proprio stata una scelta sua è stata una scelta dei tempi e figlie di un periodo triste della Germania o è davvero una persona crudele e mostruosa qui direi che è finita per me ma si apre la riflessione per voi a risentirci a presto a presto a presto a presto a presto